Mio strega, quindi dita incrociate e Floris non voglio giocare con i suoi sentimenti ma prima di salutarla vorrei sapere quanto le manca non veder giocare la Roma E' stata bellissima l'espressione di terrore di Floris C'ha avuto due minuti, no, un minuto di terrore puro Ha detto adesso che mi vuole chiedere? Io mi sono visto, credo, tutta la vita di Gekko in televisione, non faccio pubblicità Tutta la vita di De Rossi, mi sono visto tutti i gol di Messi in Champions L'altro giorno mi stavo vedendo un'Atalanta a Lecce di due anni fa, quindi non ho nulla da aggiungere Grazie a Giovanni Floris, grazie a Gianrico Carofiglio